Buonasera e ben ritrovati sulla scena del crimine. Questa sera torniamo sulla vicenda del mostro di Firenze. La settimana scorsa abbiamo affrontato la serie dei delitti, questa sera ci concentriamo sul cosiddetto secondo livello per cercare a modo nostro di gettare un po' di luce su questa intricata vicenda. Sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le immagini di Firenze, ovviamente questa sera torniamo sulla vicenda del mostro di Firenze, una storia sicuramente complessissima, la storia di uno dei più spietati serial killer europei, sicuramente possiamo considerarlo. Il primo delitto verosimilmente della serie è del 1968, l'ultimo è del 1985, 40 anni di indagini che però non hanno chiarito questa vicenda. Ci sono moltissime ombre, questa sera le affrontiamo, che ha riguardato proprio la vicenda giudiziaria del Pacciani, che ricordiamo lo morirà da innocente, e anche dei cosiddetti compagni di merenda. Ma la vicenda è molto più ampia perché di fatto nessuno ha mai realmente creduto che questo gruppo sui generis di soggetti, di balordi, potesse effettivamente arrivare a fare ciò che questo soggetto, insomma, che il mostro di Firenze ha compiuto negli anni in cui ha agito nelle campagne fiorentine. Questo secondo livello di fatto è stato più volte sussurrato, si è cercato di lavorare in quella prospettiva per rendere questa ipotesi investigativa più concreta, ma non ci si è mai riusciti. Stasera affronteremo proprio questo secondo, diciamo, aspetto della vicenda. E lo facciamo insieme all'avvocato Nino Marazzita, un famosissimo avvocato, insomma, credo che non abbia bisogno di presentazioni, ma qui stasera ha un ruolo particolare perché è stato avvocato difensore di Pietro Pacciani nel processo di secondo grado, che l'ha visto assolto. Sì. Per cui la vicenda sicuramente l'ha seguita in maniera estremamente approfondita. Questa sera attingeremo in maniera, diciamo, copiosa alla sua conoscenza del caso. E poi insieme a Paolo Cocchi, regista e autore del documentario I delitti del mostro di Firenze, da cui abbiamo attinto le immagini che stiamo utilizzando largamente e abbondantemente in queste due puntate, che ringraziamo proprio per questo. Anche qui un'attività comunque di approfondimento della vicenda, che stasera avrà modo poi di ampliarsi ulteriormente rispetto alla settimana scorsa e cercando di evidenziare effettivamente che cosa è successo dopo l'individuazione dei compagni di merenda. Quali sono stati i problemi nell'individuazione dei compagni di merenda? Perché di fatto ad oggi questo è ancora un caso aperto, perché di questo purtroppo dobbiamo parlare. Largamente aperto, insomma. Magari non in tutti i suoi distretti, ma abbondantemente ancora un caso più sapere. Non è propriamente compiuto. Esatto. Sicuramente c'è molto altro da sapere. Io qui comincio subito a chiamare in causa la vostra conoscenza della vicenda. Quando lei entra nella vicenda di Pietro Pacciani, come stanno le cose? Io entro subito dopo il processo di primo grado, Corte d'Assise di Firenze. Pacciani era stato condannato all'ergastolo per tutti i crimini, più o meno meno uno. Naturalmente leggo immediatamente la sentenza. La sentenza mi sembra una sentenza che assembla molte parole. È una sentenza che addirittura arriva intorno alle migliaia di pagine. E però io capisco che in realtà sono parole, 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 ma non c'è concettualmente. La sentenza è priva di quell'elemento fondamentale che devono avere le sentenze di condanna. La certezza della colpevolezza. Qui non solo leggo e riscontro l'incertezza della prova, ma addirittura non trovo un elemento probatorio in chiave accusatoria. Quindi devo dire che affronto poi questo processo in secondo grado, glielo dicevo prima fuori tradizione, l'ho affrontato con una quasi certezza, la certezza è solo degli sciocchi, con la quasi certezza di poter ottenere un risultato positivo così come poi è stato. Quali sono stati gli elementi principali che hanno fatto cambiare idea alla Corte? Ma diciamo, la costruzione accusatoria era una specie di requisitoria contro Pacciani e come tutte le requisitorie molto cariche, molto, voglio dire, con aggiunte... Troppo emotive. Sì, emotive, accanite, c'era un accanimento. Infatti io dissi nella discussione, nel processo d'appello, dissi, beh, questa è una requisitoria contro Pacciani, ma non è una sentenza. È una sentenza declamativa, ma non è dimostrativa. E questo è il punto fondamentale. E di fatto si arriva alla soluzione di Pietro Pacciani. Si arriva alla discussione, quello che mi fa piacere è che poi io riesco a convincere anche il procuratore generale, che era un magistrato di primoltine, il suo cognome è Toni, il quale si convince della estraneità di Pacciani a quella vicenda e chiede lui anche insieme a me la soluzione. Certo. Cocchi, lei ha affrontato anche questo aspetto di questa vicenda. Cos'è che non torna nella vicenda giudiziaria di Pacciani, ma anche di coloro che sono stati coinvolti insieme a lui in questa vicenda? Ma diciamo, facciamo un passo indietro. Il processo, il primo processo a Pietro Pacciani era un processo sostanzialmente indiziario. Erano state raccolte molti indizi su Pietro Pacciani, ma concretamente nessuna prova certa. La sentenza di primo grado che lo condanna invita appunto gli inquirenti a cercare dei complici. Invita a cercare dei complici. Difatti nel successivo, poi vedremo che la Cassazione annullerà la sentenza di assoluzione, vengono appunto portati sul banco di imputati i cosiddetti compagni di merende. Chi erano i compagni di merende? I compagni di merende erano delle persone più o meno... Della stessa estrazione di Pacciani, mettiamola così insieme. Anche inferiori. Uno di loro, comunque uno col sostegno di un altro, confessa di aver partecipato a quattro degli ultimi quattro duplici omicidi. Ricordiamo che i primi tre non hanno degli esecutori. E si arriva appunto a una condanna, anche se Pacciani muore prima, nel 98. Volevo aggiungere questo, che la sentenza è stata annullata dalla Cassazione, ma è stata annullata su un solo punto. Il fatto che la Corte d'Assise d'Appello non aveva accolto la richiesta della Procura Generale, quel Procuratore Generale che ha chiesto la soluzione, di ascoltare tre testimoni che erano i compagni di merenda, quelli che poi passeranno alla storia come i compagni di merenda, ma lì venivano indicati come alfa, beta e gamma. Il Presidente della Corte d'Assise d'Appello si mise a ridere, in sostanza. C'era poco da ridere in quel processo con tante tragedie umane e familiari. Ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un'intervista di Amonastra, che è autore del libro Il Mostro di Firenze, un giornalista che ha affrontato questa vicenda e che fornisce degli spunti piuttosto interessanti. Dobbiamo dividere in tre grandi capitoli la storia infinita del mostro. Il primo è legato ai primi anni Ottanta ed è, potremmo intitolarlo se facessimo qui un canovaccio per un giallo, la pista dei sardi. La pista dei sardi vuol dire un gruppo di persone collegate da amicizia, parentela e rapporti e legami anche sentimentali alle prime due vittime, all'uomo e alla donna uccise nel 68, che in qualche modo entrano in gioco nell'inchiesta. Chi perché è sospettato, chi perché finisce in galera, chi perché poi finisce in carcere successivamente scagionando chi era in galera prima. Insomma tutto un crogiolo di legami e di perversioni anche che hanno fatto ipotizzare che proprio in quel nucleo di persone ci fosse il segreto del mostro. La seconda grande fase inizia invece alla fine degli anni Ottanta, quando già il mostro non colpiva più, intorno all'89, 88-89, quando entra in gioco Pacciani. Pacciani viene indagato, Pacciani era il contadino, il famoso contadino di Mercatale che poi è stato appunto processato per i delitti, entra in gioco e quindi di lì l'inchiesta prende un'altra linea, una linea che si incentra proprio su Pietro Pacciani, sui suoi vecchi delitti, sulle brutalità commesse anche sulle figlie, sui precedenti che lo hanno in qualche modo contraddistinto come un possibile omicida. La terza fase è quella che si incentra sulla ricerca dei presunti, dei possibili complici di Pacciani, una fase questa che inizia durante il processo a Pietro Pacciani, tant'è che la sentenza di condanna in primo grado di Pacciani invita gli inquirenti a non fermarsi ma a cercare ancora, a cercare altre complicità, ma che in realtà poi resta quasi in sonno per alcuni anni. Si risveglia invece nel finire degli anni 90 quando prende nuovo impulso alla ricerca di chi avrebbe guidato Pacciani e i suoi amici, i famigerati compagni di Merende, mi riferisco a Mario Vanni, a Giancarlo Lotti, li avrebbe guidati per indicare le vittime e per farlo gestire questo mondo di perversioni che starebbe dietro ai delitti del mostro. Avvocato Marazzita, questi compagni di Merende, certo rivederli alla luce di tutta la vicenda poi successiva, il terzo livello ancora, tutta la parte dei mandanti, di natura esoterica, è tutto un fumus se vogliamo di rituali di sesso e morte e quant'altro diventa davvero improbabile insomma. Io devo dire che sono uno dei pochi che non ho fatto grandi interviste su questa vicenda dopo che ho concluso il processo, non mi sono esibito con libri, non mi sono esibito con nulla. Ho riassunto un po' queste ultime vicende, le vicende dopo l'assoluzione di Pacciani, dopo la sua morte, in questo modo. Il processo è ripreso attraverso una realtà virtuale raccontata in libri molto improbabili e in interviste assolutamente inaccettabili. La vicenda del mostro di Firenze è un flop investigativo, dopo l'assoluzione di Pacciani, questo non si sopporta, i compagni, i cosiddetti compagni di merenda vengono arrestati il giorno dell'assoluzione di Pacciani o durante la notte, adesso non mi ricordo, credo addirittura durante la notte. Quella giornata stessa insomma. Sì, perché? Perché la procura di Firenze aveva capito che naturalmente tutta la sua tesi era completamente franata, franata devo dire miseramente. Certo, una curiosa coincidenza temporale. Certo, sì. E quindi hanno cercato la rivincita e su quella base di una rivincita molto improbabile e molto soprattutto fuori dalla realtà storica, dalla realtà processuale, parte un filone che dà naturalmente molto protagonismo ad alcuni personaggi, si scrivono molti libri, si fanno molte interviste. La satanica, l'abbiamo anche detto la volta scorsa, è probabilmente quella in assoluto più fantasiosa, rincorsa in questo vicenda. Direi proprio di sì. Anche se non si può escludere comunque che il serial killer abbia agito nell'ambito di una congrega di persone, questo sicuramente non lo si può escludere. Riguardo a Pacciani vorrei dire che Ruggero Perugini che era il capo della S.A.S.A.M. dall'85, squadra antimostro, dall'85 fino a quando poi Pacciani viene portato sul banco degli imputati, ha raccolto numerosi indizi su Pietro Pacciani, questo è da dire. Fu trovato una cartuccia calibro 22 serie H nell'orto del Pacciani, fu trovato un blocco da disegno. Dove venne trovata questa cartuccia? Nell'orto di Pacciani. Eh ma sepolta? Beh, le pensi che l'orto di Pacciani fu setacciato, fu messo sotto sopra addirittura con un trattore e questa cartuccia spunta stranamente fuori dopo non so quanti mesi, forse dopo qualche anno. E su questo punto io invito chi è appassionato alla vicenda del mostro di Firenze di leggere la sentenza della Corte d'Assista d'Appello, Presidente Ferri, che ha scritto quella sentenza e che ha scritto poi un libro su quella sentenza. E devo dire, quello che il sospetto che introduce Ferri, magistrato di altissimo livello, è un sospetto che io proposi. Cosa dice Ferri? Che quella cartuccia fu messa ad hoc. Quindi una sorta, una manipolazione delle prove. Una manipolazione esterna, sì. Non si sa, naturalmente la sentenza dice non sappiamo chi possa essere, ma abbiamo un dubbio, un forte dubbio che possa essere accaduto così come dice la difesa, come avevo detto io. Quindi non una presenza legittima, ma una presenza di questa cartuccia, una presenza dovuta all'azione di Terzi, non meglio precisata. Una forzatura dell'attività investigativa, poi voglio dire non è la prima volta che accade. C'è un caso, c'è stato un caso di un ingegnere che... Beh, la vicenda di Elvo Zornitta nell'indagine su una bomba, credo che ce l'abbiamo ancora tutti in mente, insomma. Fu alterata una prova e questo povero uomo ha avuto una vita distrutta. Per fortuna questa cosa è emersa prima, che se arrivasse a conseguenze anche peggiori. Certo, è stata una fortuna, ma non so se ancora si è ripreso questa... Beh, dura, dopo questo tipo di trittacarne è difficile, insomma, riprendersi. Vorrei aggiungere che comunque il lavoro della Procura di Firenze, particolarmente di Perugini, che era il capo della squadra antimostro, nel corso degli anni, cioè è stato un ottimo lavoro, nel senso che comunque da subito dopo il delitto dell'ultimo duplice omicidio dell'85 fino ai primi anni 90 c'era una convinzione forte che il mostro di Firenze appunto era Pacciani. Per cui viene perquisita la sua casa innumerevoli volte. C'è da dire che a Pacciani però ci si arriva, e questo lo vediamo meglio tra un attimo perché ci dobbiamo interrompere per un momento di pubblicità, ma c'è da dire che a Pacciani si arriva tramite una lettera anonima, una delle tante lettere anonime che hanno avuto un peso notevole in questa vicenda, ma di questo parliamo meglio subito dopo qualche momento di pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati sulla scena del crimine, stiamo affrontando anche questa sera la seconda parte della vicenda del mostro di Firenze, quella più, se vogliamo, ancora più oscura, quella in cui ancora oggi le ombre si inseguono e non permettono di avere un'idea, una visuale chiara su questo caso, che ancora è in larga parte un caso irrisolto. Quindi un grosso fallimento investigativo. Stavamo parlando di lettere anonime, a Pacciani si arriva proprio con una lettera anonima ed è la prima di una serie di lettere che diventeranno importanti. Un'altra molto importante perché viene spedita all'indomani dell'ultimo delitto della serie dell'85, arriva allora l'epoca sostituto procuratore Silvia della Monica, attualmente onorevole, deputato parlamentare, e contiene un macabro reperto, che contiene un lembo della pelle dell'ultima vittima. Questa lettera probabilmente ha un significato forse più ampio rispetto a quello che le è stato attribuito nel tempo. Viene raggiunta da questa lettera che arriva peraltro immediatamente a ridosso della scoperta dei corpi. Probabilmente l'idea del mostro era un'altra, far giungere prima la lettera e costringere in qualche modo gli inquirenti ad attivarsi alla ricerca delle vittime, quindi giocando d'anticipo, alzando la posta in maniera molto sofisticata. Francamente faccio fatica a calare un Pacciani in una strategia di questo tipo, onestamente. Sì, penso che comunque, come dicevo prima nell'intervento precedente, gli indizi su Pacciani ne sono stati raccolti molti. Tanti indizi, però nessuna prova. Tanti indizi non fanno una prova. Indubbiamente. Adesso ci fregiamo un secondo e sentiamo proprio il momento in cui viene pronunciata la sentenza di colpevolezza di primo grado nei confronti di Pietro Pacciani. E poi ricominciamo il nostro viaggio proprio da lì. Il nome del popolo italiano, il peso e le vizie a lui ha scritto, lo mandanna alla pena dell'ergastolo. Si può ingrandire ancora. Attimi di grande tensione, urla, spintoni. Dura la reazione dei difensori di Pacciani, l'avvocato Fioravanti si asciuga lacrime di rabbia e dolore. Pacciani urla che non è il mostro di Firenze. E da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Questa frase fece molto discutere, è ancora largamente ricordata, insomma, ma l'immediatezza del pronunciamento della sentenza di condanna lo attiva immediatamente, subito grida, sono innocente. I suoi avvocati sono visibilmente, emotivamente colpiti da questa decisione che probabilmente li sorprende, forse. Sì, davvero, non c'erano elementi tali da costituire una prova, ma qua siamo a sentenza del gasolo in primo grado. E lì c'era ancora la vicenda che riguardava soltanto lui. Soltanto lui, però c'erano anche molti indizi su di lui. Quelli erano quelli più forti, secondo me. Quelli più forti era il proiettile trovato appunto nell'orto, il porta sapone. Però su questo proiettile aveva sentito delle cose un po' inquietanti, insomma. Poi? Poi un porta sapone che apparteneva, sembrava apparteneva ai ragazzi tedeschi uccisi e un blocco a disegno che sembrava appartenere sempre a loro e tante altre cose. Certo che uno si porta via un porta sapone da una scena del crimine, la vedo un po' difficile. Però a Pacciani sono stati trovati dei soldi in buoni postali, abbastanza, una cifra abbastanza considerevole. Dei soldi in buoni postali non giustificati dalla sua attività. Ed è per questo che si ipotizzò che ci fosse qualcuno che pagava per avere i macabri trofei che lui raccoglieva sulle vittime? Ma questa è la traccia della sentenza di primo grado che è stata completamente vanificata pezzo per pezzo. Questi volevo dire a Paolo che non sono indizi, questi sono piccoli frammenti di indizio che non hanno significato se vengono valutati complessivamente. Allora, tu dici sembrava essere, parli del portasapone, sembrava essere un elemento, l'altro sembrava essere. Con i sembra essere non vuol dire che non esiste nulla. Qui c'è una sentenza del gastro. Questa favolosa ricchezza di Pacciani è tutta una grande invenzione. C'è una specie di moltiplicazione dei pani. Aveva una cifra, in buoni del tesoro, non so in che buoni, che era una cifra, la cifra di chi aveva lavorato come un animale tutta la vita, non spendeva nulla. Pacciani non spendeva niente. C'è una testimonianza molto significativa di Suor Elisabetta, che era una persona di grande dignità umana, morale, che era veramente, secondo il credo cattolico, una persona che sapeva stare vicino alle persone in grande difficoltà. Persone riprovevoli. Io non dimentico certamente che Pacciani aveva violato le due figlie, voglio dire... Cioè, voglio dire, è veramente terribile questa persona. Guarda, io le rivelo... Ed era un guardona. Ed era un guardona. Sì, sì, voglio dire, in genere, secondo una letteratura proprio criminale, il guardone è proprio esattamente la persona che non uccide mai, perché guarda, è un voyeur, guarda e basta. Però magari potrà essere di supporto logisticamente. Guarda, io voglio dire una cosa in questa commissione che non ho mai detto. E di questo la ringraziare. Si è molto favoleggiato sui miei onorari. Naturalmente Pacciani non aveva una lira. E quindi, bene, io ebbi un rimborso spese da una rivista di criminologia, ma un piccolo onorario mi fu dato contro la mia volontà da un gruppo di giuristi democratici francesi, i quali si erano messi in contatto con me dicendo, quello che sta accadendo, Pacciani è stato condannato già in primo grado, quello che sta accadendo in Italia è vergognoso. Si è ritornati alla Repubblica di Weimar quando si condannava per delitto d'autore, cioè si condannava per la personalità. Quando non si trovava un colpevole, il colpevole si cercava un colpevole. Quindi voglio dire, tutti questi elementi erano piccoli segmenti di indizi molto gonfiati che comunque valutati nella loro unicità, come risultato avevano zero. Pensi al quadro che denotava, il quadro sottoposto a perizie di grafici, di esperti, di psichiatri, eccetera, e dice ma è chiaro, chi fa un quadro così non può che avere quel profilo criminale che ha facendo, poi si scoprì che era di un pittore sudamericano. Voglio dire, fu un processo ridicolo, nella tragedia io cercai di avere il garbo di non toccare questo aspetto molto ironico del processo, perché c'erano davanti ai miei occhi delle persone, delle famiglie distrutte, spezzate, quindi questo mi imponeva un rigore. Quel rigore che io imposi a Pacciani di non venire nel processo di secondo grado, perché quella scena di Pacciani che implora a Dio, sono come Dio tra due avvocati che lo guardano, voglio dire, era qualcosa che faceva perdere dignità al processo e quando un dibattimento perde dignità la sentenza non è mai una sentenza dignitosa, è una sentenza populista, popolare, che voglio dire va incontro a un desiderio di scoprire il vero colpevole anche quando non c'è. Certo, ma quale fu la risposta dell'opinione pubblica immediatamente dopo l'assoluzione di secondo grado? Quando io arrivai a Firenze come nuovo difensore Pacciani dopo la condanna, i fiorentini erano genericamente polemici e qualcuno mi guardava anche in modo torbo, durante il processo di secondo grado invece andavo in taxi, giravo per le vie di Firenze, mi piaceva molto fare questo, Firenze è quella città meravigliosa che sappiamo e la gente mi diceva, sì, sì, Nino, mi chiamavano Nino addirittura, Nino vedo che stai facendo di tutto per farla assolvere, è innocente, io non ci credo più, quindi c'era stato anche un cambiamento nell'opinione pubblica di Firenze. A dire il vero, io ho intervistato tantissime persone che hanno sia fatto parte della vicenda sia gente comune e sono pochi quelli che credono alla colpevolezza di Pacciani come serial killer o comunque come killer, credono sia comunque implicato a qualche titolo, come guardone, come... Sentiamo cosa ne pensa a riguardo Mario Spezzi che è sicuramente un'altra persona che ha buttato parecchie energie e tempo in questa vicenda e ne ha pagato anche delle conseguenze tutt'altro che piacevoli. Sentiamo la sua intervista. Ci sono dei dubbi su Pacciani, sì ci sono dei dubbi, ma c'è una verità storica, Pacciani è morto innocente, fu assolto completamente al processo di appello addirittura su richiesta dello stesso procuratore generale, magistrato che normalmente sostiene l'accusa. È vero che la Cassazione disse che il processo avrebbe dovuto essere rifatto, ma solo per questioni formali, la Cassazione non entra mai nel merito, quindi Pacciani morì innocente, imputato, ma innocente. I compagni di Marendi, questo è un discorso assai complesso, è vero che sono stati condannati in via definitiva, ma come ha scritto il giudice sulle motivazioni, pur non avendo prove, poiché uno accusa se stesso, va creduto. Però a questo punto della situazione, se posso aggiungere, c'è una situazione logica paradossale, e cioè assolto il farmacista Calamandrei, assolti tutti i personaggi legati, che si pensava legati al delitto Narducci, e sia in un caso che nell'altro, perché il fatto non sussiste, cioè non ci sono mai stati mandanti dei miei delitti del mostro, risulta che i compagni di Marendi e Lotti in particolare hanno confessato 4 dei 7 duplici amicidi, e gli altri 3 che sono stati commessi con la stessa pistola, con la stessa arma e con la stessa modalità da chi sono stati commessi, cioè la logica vorrebbero tutti o nessuno. La logica vorrebbero tutti o nessuno, ci spiegate, ci aiutate a capire bene la vicenda che ha riguardato i compagni di Marenda, perché veramente qui la situazione si fa a dir poco ingarbugliata. Sì, io riprendo il discorso da di prima, ci fu la rivincita, un tentativo di rivincita sulla soluzione di Pacciani, che fu vissuta per quello che era un flop investigativo. Una sconfitta bruciante. E in questa scia ci si imbarca naturalmente nei compagni di Marenda, che sono tre poveri Cristi. I compagni di Marenda vennero accusati da uno dei tre, di quelli poi definitivamente Lotti, Giancarlo Lotti, che peraltro all'epoca aveva anche turbe di natura psicologica. Intanto cosiddente intelligente piuttosto vicino allo zero, turbe psicologiche. Il carcere e la protezione per Lotti significò diventare miliardario, equivalse a diventare miliardario in una villa d'incanto. Ben ritrovati sulla scena del crimine, affrontiamo la terza parte di questa trasmissione dedicata alla vicenda del mosso di Firenze, ma soprattutto alla vicenda che ha seguito la serie dei delitti e che ancora oggi effettivamente desta moltissime perplessità, perché a livello giudiziario ha lasciato la mano in bocca sotto molti punti di vista. In parte li abbiamo analizzati, in parte continuiamo a farlo nella restante parte della trasmissione. Dicevamo una serie di delitti, quella del mostro, in qualche modo riconducibili alla sua serie. Un soggetto che viene descritto dai profiler dell'FBI, che all'epoca vennero chiamati in causa, come diametralmente opposta a dir poco rispetto a Unpacciani. Quindi un soggetto che agisce in maniera isolata, di livello culturale medio alto, pianificatore, con un ottimo controllo sulla scena del crimine e con chiaramente una serie di perversioni sessuali importanti, ma un soggetto che agisce in maniera isolata. Questo dice l'FBI. Quindi non si cala minimamente nel profilo di Pacciani, tantomeno nella vicenda che riguarda poi e viene stesa al compagno di Merenza. Ci hanno preso tanto in giro per la vicenda Pacciani, perché dice che non c'entra niente Pacciani con il nostro profilo psicologico, con le indagini che avevano fatto anche loro. Scusami l'interruzione. No, ci mancreve. Però non è l'unica zona oscura in questa vicenda, perché compatibilmente in maniera temporale rispetto al periodo degli omicidi, avvengono una serie di morti collaterali sempre in quella zona, diciamo un po' inquietanti. Su questo invito Paolo Cocchi a fornici elementi. Non sono state poi evidenziate nel corso degli anni, ma comunque prostitute, uccise senza un movente, guardoni bruciati in auto. Nel periodo successivo, comunque concomitante al processo Pacciani, muore Francesco Vinci con il suo servo pastore bruciato in auto. La sua amante, Milva Malatesta con il figlioletto bruciata in auto. Tantissime situazioni che lasciano comunque pensare se questo serial killer abbia realmente poi smesso di uccidere o comunque... O abbia cambiato semplicemente tipologia vitimologica. Sì, si sa che uccidere le coppiette con questa beretta calibro .22, ma potrebbe essere anche che... Che abbia cambiato arma? No, che facesse altre vittime con altre tipologie di delitti. Certo. In altre zone magari. Compatibilmente con la stessa serie. Non possiamo noi affermare che sia un solo killer, non possiamo affermare che sia più di una persona, ma questo che ti ho appena detto ci lascia pensare anche. Indubbiamente. Beh, certo, ripeto, con una vicenda di questo tipo tutta una serie di morti che si verificano nello stesso contesto temporale e spaziale diventa comunque interessante come approfondimento investigativo, insomma. Anche perché non dimentichiamoci che questo soggetto comunque si muoveva anche piuttosto agevolmente nei boschi della campagna fiorentina e voglio dire, questo tipo di spostamenti può anche essere intercettato da un occhio magari indiscreto che semplicemente si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, insomma. Le scene, i posti, i luoghi sono assolutamente suggestivi e comunque di notte, noi siamo stati più volte a vederli di notte, è totalmente buio, totalmente buio. Per cui un qualcuno che sapeva muoversi benissimo al buio in campagna di notte. Era alto, era alto, uno. Dalla comparazione delle perizie balistiche medico-legali, il mostro di Firenze, ormai chiamiamolo così, non poteva essere meno di uno e 84. Però, io sapevo uno e 80 dalla comparazione delle perizie sul pulmino dei tedeschi. Già, comunque uno e 80 rispetto a Pacciani era molto più alto. Fu nel processo di secondo grado, scrisse nei giornali, Marazzita inizia con un colpo di scena. Il colpo di scena era un fatto di una banalità estrema. Siccome c'era una perizia che aveva ordinato il procuratore Vigna per dire di quanto si era abbassato Pacciani rispetto a quando aveva 20 anni, i periti non ebbero il coraggio di dire i centimetri di abbassamento e dissero che non è improbabile che si sia notevolmente, il che non voleva dire niente. Allora io mi procurai, andai in carcere, tre volte andai in carcere, la prima per dire che accettavo l'incarico, la seconda per chiedere il foglio matricolare. Pacciani era diminuito di un centimetro, 1,61 prima, 1,60 dopo. Certo, da lì a 1,84 o 1,80 comunque. E i giornali, ecco la superficialità, spesso di molti giornali, il primo colpo di scena creato da Marazzita, da questo avvocato che venne da Roma. Successivamente viene... Lei era molto esotico veramente in quel momento lì, insomma. Viene detto che appunto in questo delitto che cita l'avvocato, che era quello dei tedeschi del 83, a sparare era Giancarlo Lotti e non Pacciani. Beh, ma non mi pare che Lotti sia un gigante comunque. No, Lotti era sicuramente su quel... Era 5,6 centimetri più di Pacciani. No, era sopra l'1,80, ma Lotti non ha mai sparato in vita sua, questo forse è un elemento che credo sia sfuggito, insomma. Però al di là di questo, le tesi sono tantissime. Io ho notato, facendo questo documentario, che di queste più importanti, quella ufficiale, la pista sarda, il serial killer solitario o comunque la congrega, nessuna è pienamente convincente, nessuna chiude il cerchio, nessuna di queste dà un risultato che si può dire sì, potrebbe essere andata così. A qualcuna, a tutte, manca sempre qualcosa. I tasselli purtroppo non tornano. C'è qualcuna però più accreditata rispetto alla pista sarda, secondo me. Spezzi mi pare sia d'accordo, se non sbaglio. No, io sono su un altro orientamento. I tasselli perché è quello che conosce meglio gli atti processuali. Sicuramente. Ora sentiamo cosa ne pensa però Giuseppe Rinaldi, inviato storico e autore di Chi l'ha visto, che si è occupato della vicenda e che fornisce un interessante contributo. Quello che produce il mostro di Firenze è qualcosa di molto complesso, se vogliamo da un punto di vista criminologico anche raffinato, potevano questi quattro contadini, alcuni con problemi definiti, io parlo di perizie, no, con problemi, con dei disturbi, con delle insufficienze tale, mentali, produrre tali delitti così sofisticati. A questo punto si va a cercare un livello superiore. Quando ci si mette a cercare tra i professionisti, farmacista, giornalista, il medico, ecco, il medico di cui poteva parlare, di cui parlava, per esempio, secondo Fioravanti, Pacciani poteva essere Francesco Nartucci. A questo punto si apre quella che è la pista del lago Trasimeno di Perugia, del doppio cadavere, una storia lunghissima, una storia complessa. Storia lunghissima, una storia complessa, storia che ancora oggi purtroppo non ha visto la parola fine, storia che comunque, come giustamente ribadisce Rinaldi, a questo punto diventa per tasselli superiori. Allora, Pacciani da solo non regge, allora attacchiamogli i compagni di merenda, ma anche questi fanno a quattro le parti perché chi per un belso, chi per un altro non ne fanno uno intero, perché mi sembra di capire questo, insomma. A quel punto saliamo di un altro livello, ci deve essere sicuramente qualcuno, quindi loro potevano essere la manovalanza bieca, però c'era sicuramente una regia da parte di qualcuno che aveva caratteristiche cognitive e in qualche modo era interessata a sfruttare il macabro bottino che questo tipo di soggetti avrebbe raccolto sulla scena del crimine. Un castello che si costruisce perché le fondamenta non ci sono, perché devo continuare a costruire dei piani per cercare di comprendere qualcosa che di fatto ogni volta mi sfugge, cioè non riesco comunque a raccogliere, quindi a cogliere con la giusta misura, beh questo è un aspetto fondamentale. Lui chiama in causa Narducci, ma prima di Narducci c'è un altro soggetto importantissimo che è Francesco Calamandrei. Calamandrei è sicuramente una figura chiave in questa vicenda perché effettivamente avrà poi modo di dare abbondantemente segno di sé e il suo processo è stato sicuramente uno di quelli più accesi in questa storia, perché la vicenda effettivamente è molto complessa. Io chiamo subito in causa proprio la vicenda Calamandrei perché ci servirà per poi sviluppare ulteriori livelli di questa vicenda. Nel gennaio del 2004 l'ex farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, viene iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta TER sui duplici delitti del mostro di Firenze. L'inchiesta TER si era sviluppata in seguito alle dichiarazioni di Giancarlo Lotti, uno dei cosiddetti compagni di merende, che aveva parlato di un presunto dottore che avrebbe commissionato dei delitti. Calamandrei viene incastrato anche da alcune rivelazioni, fatte negli anni precedenti dalla ex moglie, che però nel 2004 non è più in grado di rendere testimonianza, avendo seri problemi psichici. infine a convincere gli inquirenti c'è una dichiarazione di Mario Vanni che sostiene di essere stato a casa del farmacista con Pacciani e Lotti. Ma anche sull'attendibilità di Vanni ci sono dubbi. Calamandrei viene comunque rinviato a giudizio, con l'accusa di essere il mandante degli ultimi quattro omicidi del mostro. Avrebbe pagato i compagni di merende per ottenere parti di corpo femminile asportate alle vittime e sarebbe stato presente all'ultimo omicidio, quello del 1985, agli Scopeti. Nel 2005 Calamandrei viene indagato anche per la morte di Francesco Narducci. Lui si proclama innocente per entrambi i reati. Per l'omicidio del gastroenterologo perugino verrà prosciolto nel marzo 2008. Due mesi più tardi verrà assolto anche dall'accusa di essere il mandante degli omicidi del mostro di Firenze. Il fatto non sussiste. Per Calamandrei abbiamo una soluzione formula piena. Lui esce dalla vicenda in maniera proprio completa, nel senso che non c'è proprio nulla contro di lui, però viene istruito un processo drammatico. La cosa parte sempre da Lotti. Ed è sempre questo Lotti che torna in campo. Alla fine, sì, d'accordo può essere credibile uno che si autoaccusa, bisogna un po' vedere però il tipo di soggetto. Qui una perizia psicologica su questo Lotti probabilmente forse andava un attimo fatta. Calamandrei, se mi permettete, entra in scena molti anni prima. perché viene chiamato in causa dalla moglie e siamo nel 1988, per cui pochi anni. Moglie che peraltro aveva storicamente, perché poi ho visto interviste alla figlia. E qui si disquisisce se all'epoca ne avesse o meno. Il problema è che questo tipo di problemi difficilmente compaiono dal nulla a un bel giorno di primavera. C'è una storia, c'è un percorso. Lei aveva comunque un vissuto molto aggressivo nei confronti di questo marito e degli spunti paranoidi. Comunque entra in scena già molti anni fa. Poi resta in sonno l'inchiesta e riprende vigore nei primi anni del 2001, dove viene appunto accusato di essere mandante di questi omicidi. Secondo me questi omicidi non possono avere una matrice mandante, esecutore. Cosa se ne sarebbe fatto che la mandrei di questi pezzi di esecutore? Al di là di quello, omicidi a sfondo maniacale, secondo me non possono avere questo tipo di matrice, mandante, esecutore. Difficilissimo. Sarebbe l'unico caso, penso, al mondo. Non escludo che possono essere fatti da più persone, ma personalmente, questa è una mia idea, escludo che ci possa essere, come nei delitti di mafia, il mandante e l'esecutore. Certo. Indubbiamente sì. La vicenda Calamandrei cosa ci dice? Un'attività investigativa persecutoria. Quest'uomo non ha avuto pace, Calamandrei, per anni e anni e anni. Cioè questo tipo di accanimento non può che produrre cattiva giustizia, non c'è dubbio. Come vedete poi dopo i compagni di merenda... Ma al di là di quello che dice Lotti contro quest'uomo cosa c'era? Le dichiarazioni della moglie. Vabbè, per un'altra persona con grossi problemi di natura psicologica. Che poi non viene riconosciuta, capace di testimoniare per incapacità di intendere e di volere. Tutta questa storia, questo è il Mosso di Firenze, la storia dei processi, si caratterizza appunto per i personaggi che spesso intervengono, come testimoni, spesso come testimoni della personalità. Tanti di questi sono stati ritenuti molto poco affidabili. Ecco, un caso era la moglie del farmacista. C'è un'altra persona che entra in questa storia in maniera un po' sui generis, no? Se non sbaglio si chiama Carlizzi. Sì, adesso pare che sia deceduta. Ma anche questa donna che tipo di racconti fa in questa storia? Perché entra in questa storia? Beh, la Carlizzi parlava di una setta esoterica. Quindi entra nella pista satanica, diciamo. Sì, e credo che di questo ne abbiamo già parlato nella puntata precedente. Lei era comunque una che sosteneva la possibilità che ci fosse stato un interessamento di una setta in buona sostanza. Quando si muore un velo pietoso bisogna stenderlo. La Carlizzi era una che sapeva di tutti i delitti, interveniva. Il mostro di Firenze per la Carlizzi era un noto scrittore, non ripeto il nome per... Lo dico, bevi l'acqua, perché ormai anche bevi l'acqua ha sdrammatizzato questa situazione. Ah, lei aveva accusato bevi l'acqua? Sì, ha detto che il mostro di Firenze era bevi l'acqua. Però sapeva anche chi era che aveva ucciso Walter Chiari. Insomma, voglio dire, in ogni... Adesso non mi ricordo il numero di processi nei quali lei è intervenuta per dire che sapeva la verità e diceva questa verità e poi naturalmente questa verità si vanificava nel nulla. Accidenti, insomma. Comunque, ripeto, tutti il rispetto per una persona che è morta che non c'è più. Sì, certo, ma è abbastanza, diciamo, penso purtroppo normale o quantomeno frequente che vicende di questo genere attirino anche soggetti un po' fragili dal punto di vista psicologico oppure che vogliono entrare per mantieni il protagonismo avendo qualche pseudoinformazione da rendere disponibile. Insomma, da questo punto di vista, purtroppo, una vicenda come quella del mostro di Firenze sarebbe stato anomalo che non ricevesse attenzione da parte dei suoi soggetti, insomma. In particolar modo è caratterizzata appunto dalle numerose testimonianze di personaggi così che comunque... Sono entrati in maniera un po'... Non dimentichiamo che è una pressione sulle persone che hanno una psicologia piuttosto fragile o incerta. La pressione mediatica deforma tutto, eh. Io ho visto persone, il processo Pasolini, io ho avuto persone che si denunciavano, venivano da me, si denunciavano come autori dell'omicidio quando c'era già Pelosi, quando c'era il discorso degli ignoti che avevano aiutato Pelosi, beh, venivano persone da me, passavano attraverso Paese Sera. Questo vecchio e grande giornale mi aveva dato la possibilità di fare uno screening prima di mandarli da me. E fece uno screening perlomeno con 50-60 personaggi che si autoaccusavano dell'omicidio di Pasolini. Mi sfuggì a questo filtro di Paese Sera una insegnante che venne e nei primi 5-10 minuti di conversazione mi sembrava una persona assolutamente normale. Non diceva di essere l'autrice dell'omicidio, ma diceva di avere delle prove inconfutabili che raccontava, eccetera. Poi io capì che c'era un po' di schizofrenia e dissi naturalmente, lei ricorda bene la targa della macchina di Pierpaolo Pasolini è una targa come quella che hanno tutti gli scrittori, florescente, rossa, con i numeri rossi, col fondo bianco ed è 31-31, mi inventai un nome, 31-31 che è la targa di tutti gli scrittori. E lei mi disse naturalmente, io naturalmente la congedai. Certo, la situazione è sicuramente interessante, ma c'è un altro passaggio in questa storia che dobbiamo sicuramente cercare di comprendere meglio, perché ancora non è possibile portare in dibattimento un soggetto basandosi sulle dichiarazioni di Lotti. Perché Lotti viene ritenuto così affidabile? Lotti viene ritenuto affidabile come Pucci, che era un altro compagno di merenda. Un compagno di merenda. Però è in una maniera un po' più sfumata nella vicenda, insomma. Sì, un po' più sfumata, conferma le dichiarazioni di Lotti appunto, poi ci sono altri personaggi, una prostituta che comunque avvalorano questa tesi. non so, forse l'avvocato... No, ma questi personaggi inattendibili sono il puntello di questa rivincita che la procura di Firenze deve avere sullo fatto che ha iniziato una inchiesta giudiziaria di grandissimo rilievo, forse la più importante, come diceva lei, dell'Europa, il caso criminale forse più importante d'Europa, e poi naturalmente tutto questo finisce nel fumo, nel nulla, non riescono a concludere nulla. Quindi il flop investigativo poi si cerca di compensarlo con una realtà virtuale, che ha prodotto libri, che ha prodotto filmati... I compagni in prende vengono tutti condannati e vengono tutti condannati con sentenza definitiva. Vengono condannati, come dicevamo prima, la sentenza della Cassazione diceva bene, in fondo prove non ce ne sono, questa è la sostanza. Però quando uno si accusa come Lotti, ma Lotti si è autoaccusato anche nella vicenda Calamandrea, Calamandrea è stato assolto. Quindi, voglio dire, come mai questa disparità di trattamento, insomma? Tutto quello che è accaduto dopo, per una, mi auguro in buona fede, come dire, attività editoriale, masmediatica e così via, io mi auguro che sia stata in buona fede, non per guadagnare con i libri o con i filmati. Tutto questo smentisce la sentenza di condanna dei compagni di merenda. I compagni di merenda dovevano essere coloro che insieme a Pacciani procuravano i semi, i pubbe delle varie... A Calamandrei. A persone che poi sono state assolte. Addirittura Calamandrei viene sospettato anche per l'omicidio di Narducci, di cui parliamo tra qualche brevissimo momento di pubblicità, perché questa è, diciamo, la vicenda che in qualche modo chiude un po' il cerchio, no? Dopodiché l'indagine si ferma, quello è un delitto estremamente anomalo, il giallo nel giallo nel giallo, se vogliamo, con due cadaveri in qualche modo che entrano in campo, di cui uno non ci sarà mai di fatto un vero riconoscimento. Quello che sappiamo per certo è che la persona trovata nel lago Trasimeno difficilmente era Francesco Narducci, insomma, no? Questo penso che lo possiamo dire. Dopodiché l'inchiesta è talmente ampia che probabilmente bisognerebbe dedicare una puntata proprio a sé alla vicenda di Narducci. Noi adesso ci fermiamo qualche momento, torniamo per l'ultimo blocco e parleremo proprio di questo, cioè della strana vicenda del dottor Narducci, delle strane connessioni con la vicenda del mostro di Firenze e con l'estrema poca chiarezza che ancora oggi aleggia su questa storia. A tra poco. Ben ritrovati sulla scena del crimine, stiamo affrontando l'ultima parte di questa seconda puntata dedicata alla vicenda del mostro di Firenze e ci avventuriamo forse nella sua componente ancora più oscura. Mi riferisco al ritrovamento del medico gastroenterologo Francesco Narducci che effettivamente conclude un po' l'attività investigativa su questo tipo di caso, anche se di fatto, ripeto, non è ancora sicuramente giunta l'ora di porre la parola alla fine, e che comunque complica, se è possibile, ancora più la situazione a carico di questa vicenda che non sembra essere in grado di trovare finalmente pace. Sentiamo e vediamo la scheda che riassume la vicenda di Francesco Narducci e cerchiamo di comprendere come si colloca questa morte, questo delitto, insomma, perché di questo si è trattato, e nella vicenda invece più ampia dei delitti del mostro di Firenze. Francesco Narducci, un noto gastroenterologo del Policlinico di Perugia, di 36 anni, viene trovato morto il 13 ottobre del 1985. Il suo corpo riaffiora nelle acque del lago Trasimeno, dove qualche giorno prima era stato visto allontanarsi da solo a bordo della sua barca. Un suicidio per annegamento, l'ennesimo episodio in quelle acque. Il caso viene archiviato, senza alcuna ipotesi di reato e senza fare l'autopsia. Nel giugno del 2002, il colpo di scena. Il sostituto procuratore della Repubblica, Giuliano Mignini, chiede la riesumazione del cadavere di Narducci. Si sospetta che sia stato ucciso e che la sua morte possa essere collegata ai delitti del mostro di Firenze. L'ipotesi matura in seguito a un'indagine della squadra mobile di Perugia sul mondo dell'usura. In alcune intercettazioni, infatti, gli strozzini minacciano le loro vittime di fargli fare la fine di Pacciani o del dottore morto sul lago Trasimeno. Delle implicazioni di Narducci nei delitti del mostro parlano anche alcune fonti anonime e alcune testimonianze raccolte da Michele Giuttari, l'allora capo del gruppo speciale incaricato di indagare sul mostro. A 17 anni dalla sua morte, viene quindi eseguita l'autopsia sul corpo del gastroenterologo. I risultati sono a dir poco sorprendenti. Narducci, secondo gli esami svolti dall'Istituto di Medicina Legale di Pavia, è stato ucciso per strangolamento. Ma c'è di più. Il corpo riesumato è sì quello di Narducci, ma le sue caratteristiche fisiche fanno escludere che si tratti dello stesso corpo emerso dalle acque del lago Trasimeno nel 1985. Qualcuno, insomma, avrebbe messo nella bara il cadavere di Narducci dopo aver fatto ritrovare nel lago il cadavere di uno sconosciuto, morto e annegato. Ma chi può aver architettato tutto ciò e perché? Forse si è voluto inscenare un suicidio per allontanare il sospetto che la sua morte fosse collegata alle vicende del mostro di Firenze? Nel giugno del 2005 viene iscritto nel registro degli indagati Francesco Calamandrei, già indagato come mandante degli omicidi del mostro di Firenze. Secondo l'accusa, Calamandrei e Narducci sarebbero stati in strettissimi rapporti e avrebbero fatto parte del cosiddetto secondo livello, quel gruppo di intellettuali considerato la mente dei delitti del mostro. Poi forse la paura che Narducci potesse rivelare episodi compromettenti avrebbe indotto Calamandrei a sbarazzarsi dello scomodo amico. Viene indagato anche il giornalista Mario Spezzi per favoreggiamento. Nel 2008 l'ennesimo colpo di scena. La procura di Perugia chiede l'archiviazione del fascicolo relativo all'omicidio di Francesco Narducci e il proscioglimento di tutti gli indagati. Di seguito verranno prosciolte anche tutte le altre persone coinvolte a vario titolo nella vicenda. Parenti, conoscenti, pubblici ufficiali e appartenenti alle forze di polizia. L'indagine sulla morte di Francesco Narducci dopo nove anni si dissolve in una bolla di sapone. Anche qui direi una situazione davvero anomala. Ma chi ripaga le persone che sono state danneggiate, vive o morte? Qui c'è un problema ancora più ampio, qui c'è un ritrovamento di un corpo, questo punto sconosciuto perché viene descritto con dimensioni tali. L'annegamento indubbiamente modifica delle caratteristiche corporee, ma non quelle legate alla statura o quantomeno ad altri parametri abbastanza riconoscibili di solito nel corpo dell'annegato. In questo caso addirittura viene resumato e a quel punto c'è effettivamente il corpo di Narducci. Peccato che non è un corpo morto annegato, ma è un corpo morto strangolato. Il delitto Narducci è... Qui la situazione davvero diventa. C'è chi è che si prende la briga di andare lì, riaprire una vara, cambiare il corpo all'interno, una volta sepolto, quando è avvenuto non si sa, però sappiamo che c'è stato questo tipo di operazione. Il delitto Narducci è un delitto assolutamente misterioso e non spiegato. Ad oggi è assolutamente un caso irrisolto, sappiamo solo che si tratta di un omicidio. Quello che volevo fare osservare è che comunque non è stato dimostrato nessun collegamento operativo con i delitti del mosso di Firenze. Si sapeva che comunque Narducci è stato più volte visto nei dintorni di Firenze e frequentava determinate persone, però da qui a dire che c'è un collegamento effettivo ce ne passa. Indubbiamente, però voglio dire anche qui perché a un certo punto Narducci viene collocato in questa vicenda e addirittura viene collocato nell'aspetto principale, quindi come mandante, come colui che insieme a Calamandrei avrebbe gestito e grande burattinaio. Ma quando si intaga in un modo maniacale, d'accanito, perché si vuole dimostrare una determinata tesi, e tutto questo è diabolico. E però si andate a cercarsi una morte veramente anomala, dove sono successe delle cose davvero agghiaccianti. Una morte anomala di cui però non si riesce a spiegare l'origine, il motivo, il mandante, l'esecutore. Ma qualcuno l'avrà riconosciuto quel corpo trovato dal lago? Un familiare che dice sì è lui quando questo non era lui. Ma è possibile? Certo. Qui si aprirebbe un capitolo molto ampio sulla morte e il ritrovamento di Francesco Narducci. Quello che posso dire è che comunque, come ho documentato nel documentario, non è stato dimostrato un collegamento. Però potrebbe esserci una, potrebbe essere un omicidio che non c'entra niente ovviamente con Pacciani, con il mosto di Firenze, cioè come io ritengo, sul quale però non si dirà mai la verità, perché si è indagato in questo modo monomaniacale, finalizzato a dimostrare il teorema che poi Pacciani e i compagni... Quanto meno si arriva al prosceglimento di tutte queste persone, a distanza di molti anni. Cioè di fatto sulla morte di questa persona non abbiamo ancora nessun tipo di informazione. Allo stato attuale che tutte le indagini sul mosto di Firenze sono chiuse, tutti i processi sono chiusi, i colpevoli rimangono i tre compagni di merende come esecutori. Questo è il dato di fatto. Pacciani no, Pacciani muore innocente e la sentenza è stata annullata, ripeto, per un aspetto assolutamente parziale che non c'entra niente col merito. Sì, nella successiva però viene indicato come nel... Negli altri processi, voglio dire... Comunque... Anche questa è un'anomalia mica da ridere, insomma. È un'anomalia assolutamente... Viene assolto nel suo processo ma viene indicato in corretà con gli altri, nei processi però degli altri compagni di merende. Gli unici colpevoli sono i compagni di merende. Colpevoli formali. Formali e comunque... Per la legge italiana. Non reali. Esecutori. Non reali perché tutto il resto, il dopo, da quel momento in poi, tutto smentisce una corresponsabilità dei compagni di merende. No, io parlavo di sentenze. Parlavo di sentenze e dicevo questo. Le sentenze successive che vanificano tutta l'attività. Portavamo prima... Le successive hanno appunto assolto i mandanti da essere... Sì, non ci sono mandanti, tecnicamente quantomeno individuati. Che ci siano stati o meno... L'anomalia è che... I posti dell'ardo a sentenza. L'anomalia è che secondo la Cassazione ci sarebbero gli esecutori, però secondo le sentenze... Non ci sono i mandanti. È un po' difficile essere un esecutore senza mandanti. È una follia, è un processo folle ormai. E comunque ricordiamo che parliamo degli ultimi quattro... E i primi? I primi tre rimangono... Nella nebbia, per assoluto. Con lo facciani è assolto. Si presume che se... Come diceva appunto Spezzi prima... Ma se abbiamo... Forse l'unica certezza è che siano tutti della stessa serie. Che appartengono tutti alla stessa serie, che siano tutti riconducibili alle stesse mani. Ci sono molto e poco le certezze in questa storia. Beh, c'è un'arma, eh. C'è un'arma, voglio dire. C'è un'arma, una di queste... Ci sono delle ferite importanti, c'è un modus operandi che torna, ci sono firme anche di natura comportamentale particolarmente evidenti. Forse il primo delitto, quello del 68, è un po' più sfumata la situazione. Per cui potrebbe darsi che sia una cosa esterna. C'è l'arma però lì, eh. C'è l'arma. C'è l'arma. Anche lì. Ci sono le tracce di quest'arma. Queste sono le certezze. Arma che non verrà mai ritrovata. No. Queste sono le certezze, queste che hai appena citato tu. Il resto è tutto molto... Stavi dicendo una cosa interessante di Spezzi. Sì, vorrei capire anche io, cioè perché Spezzi viene indagato poi alla fine? Cioè esattamente quale sarebbe stato il problema che lui ha creato in questa controinchiesta che ha svolto? Per aver ostacolato la giustizia nell'attività di indagine, sostanzialmente era questo. E come avrebbe ostacolato la giustizia? Per farlo stare zitto, in sostanza, perché non piacevano le tesi di Spezzi. Perciò la giusta del libro Le dolci colline di sangue, lui propone una pista alternativa a quella che è quella, diciamo, tra virgolette ufficiale. E diciamo pure che in questo momento il libro di Spezzi in America è venduto... Sì, è un bestseller, è un successo editoriale. ...tradotto in 18 lingue. E' il libro sicuramente che di tutta questa vicenda ha avuto maggiore successo editoriale. Questa sì che è la vendetta di Spezzi. A proposito di Spezzi, abbiamo un altro spezzone della sua interessante intervista rilasciata a Paolo Cocchi nell'ambito del documentario I delitti del mosso di Firenze. Spezzi è sicuramente una figura chiave. Probabilmente ci ha visto molto più lungo di quello che forse gli inquirenti vorrebbero ammettere. Sentiamo cosa dice. Il caso giudiziario a questo punto che tutte le indagini sul caso del nostro di Firenze sono chiuse, sia a Firenze che a Perugia, presenta come unici responsabili Pacciani, Vanni e Lotti. Pacciani su indicazioni perché fu assolto, ma loro dicono Vanni e Lotti dice che c'era anche lui. Vanni è morto forse senza neanche aver capito perché fu condannato dalle sue condizioni di salute. E un Lotti, che sappiamo dire il grillo del villaggio, alcolista dichiarato, tentito e riconosciuto, quindi pagato, che l'accusa ma che non sa dare neanche un piccolo elemento di prova. Ma lei le ha analizzate le dichiarazioni di Lotti? Sì, sono dichiarazioni folle, chiaramente pilotate, e malgrado il pilotaggio discontinuo e contraddittorie. Voglio dire, è un elemento probatorio che non può neppure chiamarsi elemento indiziante. A quanto viene condannato Lotti? Lotti mi pare a 30 anni. Ricordavo 28-30 anni. Quindi insomma, anche lui non è che se la passa bene. Però abbiamo detto... Gli è stato assicurato una vita gradevole a Lotti, rispetto alla vita che faceva, che conduceva prima. Ripeto, dormiva nei portoni del centro di Firenze, si nutriva quando era possibile. Poi gli è stato assicurato in una caserma il tetto, l'alloggio, insomma, il cibo... Una svolta, insomma. Il vivo, è certo. È morto di lì a poco. Sì. Ah sì? Non si è potuto potere i benefici, diciamo, economici in senso generale, in senso vasto, che aveva avuto. Ora sono morti tutti i compagni di Merenda? Sì, tutti. Vanno l'ultimo, a 92 anni, credo. È morto anche lui? Sì. Recentemente. È quasi impazzito, naturalmente. Beh, certo, ritrovarsi proiettato in una dimensione del genere. È certo, è una persona di scarsa cultura. Con la serie di delitti forse più terribile, ce ne sono stati molti altri nel nostro paese, ma con l'eco emotivo collettivo del mosso di Firenze probabilmente nessuno. La tragedia del mondo è che per ogni delitto che tocca molto l'opinione pubblica, che lacera l'opinione pubblica, che spaventa l'opinione pubblica, si sente il bisogno di trovare un colpevole. E questo spesso crea delle anomalie. Qualcosa che certo non gli ha aiutati è che di fatto le coppiette smettono di morire. Certo. E questo non è un fattore da poco. Nell'85 si interrompe la serie, quantomeno la serie di quei delitti nel Fiorentino. Guardi, io disse... Ed è un aspetto importante. Io alla prima conferenza stampa che fece a Firenze, disse, guardate, secondo me Pacciani non c'entra, e io dimostrerò che Pacciani è innocente e che sarà assolto. Però Pacciani farà la fine di un vecchio processo che si tenne a Roma su una persona... Come? Girolimoni? Sì, di Girolimoni. Su una persona che si chiamava Girolimoni e che uccideva le bambine, soprattutto preferendo le neonate. Ben accusato. Le sventrava con... E fu accusato, eravamo durante il periodo fascista, fu accusato un fotografo che aveva solo fama di viverre, quindi già questo la dice lunga. Il viverre non è certamente uno che squarta le neonate, in sostanza. Beh, poi, adesso, se noi diciamo Girolimoni, chiunque ripete quello che uccideva le bambine. Un pedofile assassino. Un pedofile assassino. Un pedofile assassino. Passino come Pacciani. Pacciani, il mostro di Firenze. Questo è il grande dramma di quando un crimine così efferato come tutte queste povere ragazze, queste coppie uccise, naturalmente hanno creato un vulnus nella serenità sociale del nostro paese, ma è andato anche al di là. Una cosa che mi preoccupa, e io lo dico da difensore di Pacciani, è che queste povere vittime, queste famiglie, non hanno mai avuto un risarcimento. Che evidentemente il risarcimento non poteva farlo Vanni, è l'unico rimasto. E allora non capisco perché lo Stato, perché il Comune di Firenze, perché la Regione, perché non abbia provveduto a sostenere queste vittime. Questo è previsto dalla politica, dalle leggi della politica, dalle leggi dello Stato, dello Stato di diritto, quindi si poteva anche fare. Indubbiamente. Perché tutti sono molto preoccupati, c'è stato un film incentrato tutto, mi pare di Mediaset, incentrato tutto su una di queste figure, Rontini, che era un poliziotto che non si è dato mai facile. No, hanno fatto una fiction, che poi è andata, credo, su Mediaset, però era uscita su Sky, su Fox Crime. Ah, su Fox Crime. Proprio i delitti del mostro di Firenze. Ebbene, questo povero Rontini continuò a vivere economicamente con le largizioni dei suoi colleghi, lui era già in pensione, e pensa che morì, pensi, non si dobbiamo dare il lei, mi pare, che morì davanti alla caserma quando era andato a prendere quella specie di obbolo mensile che i suoi colleghi generosamente gli dava. Perché lui si era rovinato completamente. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo documentario. Certo, e a non fare mai i nomi delle vittime, tra parentesi. No, non lo avevamo mai fatto. E non vengono neanche mostrati i loro volti. No, né foto né nomi delle vittime. Proprio come scelta realizzativa. Uno dei motivi è appunto questo, di evidenziare che non c'è stato mai nessun risarcimento, né morale né tantomeno economico. Insomma, un fallimento completo di questa vicenda. Io onestamente conoscevo la vicenda in maniera abbastanza superficiale come si può conoscere da chi, insomma, da parte di chi... Ma tu hai lo strumento per approfondirlo nella tua professionalità. Esatto, però devo dire, non essendomi occupata della vicenda l'ho approfondita in maniera abbastanza, diciamo, così, generalista. Questo approfondimento mi ha dato davvero uno spunto da spettatrice, ma davvero angosciante, devo essere sincera. Pensavo ci fosse qualcosina di più in questa storia. Pensavo che effettivamente gli elementi raccolti fossero degni di entrare in un'aula di tribunale. Qua mi sembra di capire che invece la stragrande maggioranza di quello che è entrato in queste aule poteva probabilmente molto più legittimamente starne al di fuori. Ma c'è anche tanta gente che crede comunque alla versione ufficiale. Indubbiamente sì, anzi la stragrande maggioranza delle persone è convinta che con Pacciani e i compagni di Merende la vicenda si sia chiusa e che tutto sommato l'ipotesi che ci possa essere un mandante è assolutamente plausibile, ma che probabilmente non c'è tutta questa volontà di arrivare a individuarlo. Questo mi sembra di capire sia un po' il clima collettivo. Ma perché nell'intimo di ognuno di noi c'è il desiderio esorcizzante che almeno il colpevole è stato trovato. Si chiama i Pacciani, si chiama i Rossi, si chiama i non so come. Ma quando non è così? Eh lo so purtroppo è l'effetto girolimone di cui parlavo prima io prima nella prima conferenza stampa quando assunzi la difesa di Pacciani. Certamente, e con questa amara considerazione e con ancora i tantissimi dubbi che alimentano questa vicenda, chiudiamo questa doppia puntata dedicata alla vicenda del Mostro di Firenze. Ringrazio naturalmente i miei ospiti, l'avvocato Nino Marazzita famosissimo penalista e all'epoca difensore del processo di appello di Pietro Pacciani e Paolo Cocchi, ideatore e realizzatore del documentario I delitti del Mostro di Firenze, a cui abbiamo cannibalizzato molto del materiale che abbiamo utilizzato durante queste puntate per arrivare effettivamente a fornire un quadro più ampio di questa vicenda e soprattutto senza negare diritto di essere evidenziati ai tantissimi dubbi che ancora la follano. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata della scena del crimine. A presto!